Sì, 50 euro se riesci ad avere il numero di telefono di quella. Quella? 100 euro. Preparate i soldi. Scusa, non sono un pazzo, ho scommesso con i miei amici che mi dai il tuo numero di telefono. Per favore non mi far perdere, dammene uno qualunque, basta che me lo dai per favore e ti prego. Uno qualunque? Pure quello di tua nonna. Ok. Ma come cazzo fai? Esperienza, fascino, sour fare. Ma quale fascino, sour fare? Ma falla finita. Senti, facciamo una verifica. Chiamiamo un po' sta tipa, vediamo se il numero è veramente suo. Significa che non vi fidate di me? Esatto. Senza fiducia non c'è amicizia e mi meraviglio dopo tanti anni. Squilla. Che poi uno alle volte si sbaglia a scrivere, i rumori di gabbiani, le cose, la piscina. Oh, rispondi. Pronto? Pronto. Ciao, sono Massi, quello di due minuti fa. Sto chiamato così e ti rimane impresso il mio numero. Lo sai che ci speravo? Ah sì, ci sperava. Ci speravo. Magari un giorno di questi ci si vede. Ti va? Amore, ti va il panino con la bressaula? Sì, mi va. Ehi, che entusiasmo. Mi va. Allora, a presto. Un bacio. Ciao. Ragazzi, comunque una cosa voglio dirvi. Chi è? No! No! Allora. Grazie a tutti.